Le banche del territorio al centro del forum organizzato da Nuova Banca Etruria, tutto dedicato alle prospettive di crescita e di rilancio del sistema territoriale. Una giornata di lavori per aprire un dialogo e mettere così a confronto il reinato Istituto di Credito Aretino e i rappresentanti delle istituzioni locali e accademiche delle imprese, obiettivo comune lo sviluppo socio-economico di un territorio ancora provato dalla vicenda Banca Etruria. Far vedere che questo territorio è unito e compatto attorno alla loro banca è un valore incredibile e può essere il veicolo perché la banca non solo torni, come abbiamo cercato di dimostrare in questi periodi, in questi 150 giorni, ma continui ad essere la banca di questi territori. La sovraesposizione nazionale, dovuta ai motivi che voi conoscete meglio di me, ha fatto sì che ci sia un Arezzo visto come quello che non è. Da oggi è un punto di ripartenza. Vogliamo dire che la banca è pronta a questo e dire a chi sul territorio opera, assieme facciamo qualcosa perché Arezzo torni a quello che merita. Proprio in un momento in cui la nostra città sta tentando a fatica, ma in maniera positiva, di uscire da una crisi di cui non è responsabile, avere una banca del territorio che è in grado di sostenere economicamente non solo le famiglie ma soprattutto gli imprenditori in questa fase di rilancio è fondamentale. Quindi il mio auspicio va a che questa banca rimanga sul territorio e che il nuovo proprietario la mantenga, magari in maniera ancora migliore di come è adesso, però che mantenga il legame stretto con le famiglie e con gli imprenditori aretini. Io credo che bisogna pensare senz'altro a far restituire a chi è stato mal tolto e speriamo che arrivi presto una soluzione equa e buona a tutti quanti, ma non si affonda la banca che è una delle identità di lavoro del nostro territorio. Noi non vogliamo condannarci alla marginalità. Le istituzioni dovevamo fare ciascuno la propria parte, credo che sia giusto che ciascuno faccia il suo. Quindi chi ha sbagliato lo dirà la magistratura, ma in questa maniera far saltare tutto è certamente una cosa da non fare.